Se io sono cosciente dei sensi, posso provare a trovare quei sensi. Certo? E' la mia scuola, perché vivo nei miei sensi. Perché conosco solo i sensi. Io vivo nel corpo. Da dove posso vedere? La mia limitazione è fino al corpo. Quindi il mio limite è il corpo. Quindi io dalla coscienza del corpo cresco un po' e comincio a vivere nella mente. E allora mi comincio a piacere l'ascolto della filosofia. E allora mi comincio a piacere che voglio sviluppare la mia intelligenza. E la natura della mente è creare dubbi negli altri. E allora rendo tutti molto dubbiosi. perché i miei limiti arrivano fino alla mente. E quindi la mia limitazione è che c'è... insomma il movimento è limitato dalla mente al corpo ai sensi, dai sensi al corpo alla mente. E' una persona che vive nei sensi, qual'è la sua coscienza? E' una persona che vive nei sensi. Qual è la sua coscienza? E' una persona che vive nei sensi. Qual è la sua coscienza? E' uno che invece vive nel corpo. Che cosa può pensare? E' uno che vive nella mente fino a dove può pensare. Invece uno che vive nella divina coscienza. che è stabilito nel divino. Lui può vedere... Lui può vedere... in modo differente, differenziato. Potete capire? Quindi ci sono differenti scopi perché ci sono differenti coscienze. Giusto o sbagliate? Si capisce? Ora decidi cosa vuoi. Quindi tu decidi cosa vuoi. Io ti mostro e ora prendi la decisione di cosa vuoi. Quindi Maharaj dice, io ti ho fatto vedere la faccenda, ora decidi dove vuoi andare. Vuoi andare su o vuoi andare giù? Quindi qual è il posto... che posto vuoi trovare per stabilirti, per vivere? Va bene? Tutto a posto? Hai inteso la risposta? Il problema è che siamo arrivati a l'ora di cena è un po' tardi anche per Maharaj. Ancora dalla cucina arrivano... Segnali. Segnali. Una domanda in più. Litigate. Un'altra domanda. Un'altra domanda. Per prima cosa ditemi, siete soddisfatti delle risposte che ha dato Maharaj? Facciamo domande e segno che siamo soddisfatti. Ah, se noi facciamo domande, è perché siamo soddisfatti delle risposte. Ok. Posso farlo oppure... Quindi giacabando, vai. Sì, allora io stavo pensando come spiegare a me stesso che ci troviamo in questa situazione. Vediamo che Krishna e i suoi servitori si sono sempre impegnati per migliorare la situazione di questo mondo. Sì. Allora, uno dice che Krishna e i servitori sono costantemente impegnati per dare migliori situazioni al mondo, per fare migliori nel mondo. Il problema è capire perché questa fonte inesauribile di mascalzoni e deusura prendano sempre il sopravvento e rischiamo sempre di essere sopravfatti. Quindi, Prabhu vuole chiedere, perché se i messaggi di Dio cercano di dare... ... per aiutare la humanità, per aiutare questo mondo, ma i quelli che vanno sono i dèmoni, i rascati? Grazie. Grazie. Perché c'è tanto potere in le mani delle persone negativi, se i servitori di Krishna lavorano per esempio per il suo consapevolezza? Grazie. E ora... parlò con un musulmano i demoni dicono i demoni dicono ma non mi lasci posto perché perché anche io sono la tua creazione e allora gli viene detto ti darò un posto dove non si ricordano di me quindi gli dice ecc gli dice ok quindi gli dice hai giusto Quindi ti do un puntino, un puntino piccolo come se uno prendesse una penna e si fa un puntino nel palmo della mano. La storia l'ho fatta breve, in realtà è molto lunga. Quindi quel punto dove stanno i demoni è il punto dove le persone non si ricordano di Allah. Tu puoi stare lì. Quindi se qualcuno si ricorda di Dio, si ricorda di Krishna, poi diventa un punto, un punto è lì. E se non si ricorda di Dio, diventa un grande spazio, prende un grande spazio. Perché il punto, il grande spazio, perché la persona che non vibrava il nome del Dio, diventa grande. Quindi il puntino che è stato dato inizialmente era piccolo. Però se aumentano le persone che non vibrano il santo nome di Dio, allora lo spazio per i demoni aumenta. Perché è il posto dove vanno i demoni è il posto dove la gente non si ricorda di Dio. Quindi più sono quelli che non si ricordano il nome di Dio e più aumenta lo spazio per i diavoli. E se adesso c'è un grande spazio che è a disposizione di questi demoni, se noi iniziamo a ricordare Dio, il loro spazio si riduce. Ma il punto è lì. Però il punto c'è. Il punto c'è. E comunque è sempre costante il fatto che quel punto può ingrandirsi, cominciare a ingrandirsi in ogni momento se noi ci dimentichiamo di ricordarci di Dio. Quindi è tutto nelle nostre mani. Vogliamo essere una vibrazione negativa o una vibrazione positiva? E' la mia vibrazione che contraddistingue il posto, che caratterizza il posto. Si capisce? Perfetto. 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 Asciutto. смmmenà. Si, spazio come in tutti a tutti. 30-40 minuti